ecoisole intelligenti si va verso l'ampliamento un anno per avere la nuova sede del 118 rinforza le questure pesaro orbino resta bocca asciutta antenne della discordia si rimuove a muraglia resta fiorenzuola musica e dialogo interculturale con we music fest una buona serata e ben ritrovati a rossini news il nostro telegiornale delle canale 80 che in questa edizione del notiziario di martedì 24 ottobre apriamo occupandoci di ambiente e gestione dei rifiuti esattamente un anno fa nel centro storico di pesaro veniva infatti avviata la sperimentazione attraverso i cassonetti intelligenti che hanno finito per sostituire la raccolta porta a porta 12 mesi dopo il bilancio della sperimentazione alquanto positivo tant'è che si punta ora ad ampliare il progetto esattamente un anno fa il 24 ottobre partiva la sperimentazione delle eco isole intelligenti in centro storico sei postazioni di cassonetti automatizzati che hanno permesso a buona parte del centro di accantonare il porta a porta e le annesse problematiche relative al decoro urbano in orario serale con le eco isole invece è stato possibile conferire rifiuti nei cinque contenitori differenziati utilizzando una tessera magnetica assegnata solo agli intestatari di utenze etari nelle vie oggetto della sperimentazione le utenze attive sono un migliaio con 716 tessere consegnate fra uso domestico e non domestico oggi ad un anno dalla sperimentazione marche multiservizi annota un bilancio quanto mai soddisfacente con 170.000 conferimenti registrati in 12 mesi per una media di 465 al giorno e circa 19 ogni ora la novità ha soddisfatto le utenze interessate svincolatesi da orari obbligati per il conferimento dei rifiuti e ha portato diversi altri residenti del centro a chiedere l'estensione delle eco isole oltre le 6 già in funzione su via del moro, via Giordano Bruno, via Spada, via Morselli, via Borgomozzo e via Nobili Marche Multiservizi si è detta pronta ad un nuovo investimento di concerto con il comune per estendere questo modello di raccolta che verrà prima presentato a cittadini e operatori interessati contribuendo a migliorare il decoro urbano della città in vista della capitale della cultura e dal conferimento dei rifiuti in centro passiamo alla pulizia straordinaria della zona mare che come vi abbiamo documentato nelle Tg di ieri ha visto tante auto che non hanno rispettato il divieto di sosta affisso per svolgere al meglio la pulizia di fogliame e caditoie l'assessore Belloni ha riferito che ci sarà ancora qualche giorno di tolleranza dopodiché si procederà con le multe per chi continuerà a violare il divieto ricordiamo che la pulizia della zona mare si sposta ogni giorno fra i viali del quartiere con divieti dalle ore 12 alle ore 18 e come vi abbiamo mostrato nel nostro telegiornale di ieri è partita la consegna dei lavori per quello che riguarda la ristrutturazione della sede della sala operativa integrata della protezione civile di Pesaro 1.800.000 euro di lavori che porteranno anche ad una nuova centrale operativa del 118 per il consigliere regionale Nicola Baiocchi è il raggiungimento di un obiettivo atteso da anni tra i tanti tasselli che si stanno mettendo a posto diciamo così sulla sanità pesarese la giunta Cuaroli punta ora a consegnare una nuova sede operativa del 118 a Pesaro Nicola Baiocchi da presidente della commissione sanità della regione Marche si è mosso in prima persona per risolvere questo problema in cui si è trovato una soluzione su due argomenti quello della sala operativa della protezione civile che una volta riqualificata diventerà la nuova sede del 118 un lavoro di gruppo, un lavoro di squadra, un progetto che parte da molto lontano dalle precedenti amministrazioni come spesso accade purtroppo alcuni progetti vengono arenati vengono sommersi dalle scartoffie e dalla burocrazia questa amministrazione ha il merito di riuscire a prendere in mano situazioni importanti e portarle a termine quindi veramente poche parole e molti fatti la sede del 118 era un progetto importantissimo che seguivo da tempo dal mio insediamento anche prima di diventare presidente della commissione sanità perché è innegabile che questi operatori abbiano il diritto e la dignità di lavorare in una sede in un posto assolutamente dignitoso quindi adesso arriviamo alla conclusione di questo progetto abbiamo consegnato i lavori, adesso ci saranno i tempi tecnici per la realizzazione ma una struttura all'avanguardia, moderna con un efficientamento energetico legato anche ad un bando del GSE una consegna di lavori prevista in poco meno di un anno che va comunque in una direzione molto precisa prima c'era anche a livello logistico una sede in via Oberdan a fianco all'ospedale ora si cambia completamente geografia territoriale anche per esigenze probabilmente di spostamenti ritenuti più adeguati Esatto, i tecnici hanno valutato che anche la vicinanza con la sede del SOI possa avere ancora maggiormente una valenza importante quindi si è ben pensato di inserirla all'interno di questo contesto per rendere ancora più operativa e per rendere ancora più fruibile il suo operato Dalla maggioranza passiamo all'opposizione in consiglio regionale con Andrea Biancani che esprime forte disappunto per la nuova proposta di legge regionale sul piano casa La nuova norma è stata inserita nella nuova legge urbanistica che la regione Marche sta portando avanti una legge che vogliono approvare entro il mese di novembre sono andato a verificare e a leggerla per capire ad esempio come veniva trattato il piano casa che ricordo che scadrà a fine 2023 e dal 1 gennaio 2024 quindi sarà in vigore questa nuova legge Devo dire che sono rimasto sconcertato perché questa norma è già stata approvata dalla giunta regionale quindi dal governo regionale quindi dal presidente Acquaroli e dall'assessore competente che è l'assessore Aguzzi ma da tutta la giunta hanno approvato un piano casa che praticamente non fa altro che aumentare gli iteri burocratici, allungare i tempi in molti casi a non renderlo fattibile una norma quindi che non va né nella direzione della semplificazione che hanno in qualche modo annunciato più volte ma soprattutto creerà le condizioni non creerà le condizioni per applicarlo quindi famiglie, imprese tutti quelli che vivono nel mondo legato all'edilizia cioè i negozi ad esempio chi vende mobili ma gli stessi tecnici professionisti sono molto critici perché quindi sarà una norma che non sarà applicabile io ho detto ho anche dichiarato che mi auguro che l'abbiano approvata senza averla letta o se l'hanno letta è ancora peggio perché è veramente improponibile so che in questo momento la commissione sta cercando di rivedere quelle che sono le scelte che il governo regionale ha fatto ben venga sono contento che verrà modificata però resta il fatto che la giunta regionale ha approvato una norma che ha reso veramente il piano casa impraticabile e che andrà come dire a creare problemi in un tessuto economico come quello dell'impresa che già vive in un momento particolare perché ricordo che il bonus 110 l'attuale governo l'ha in qualche modo sospeso e quindi oltre al bonus 110 l'altro il piano casa che stava facendo da anni lavorare imprese facendo lavorare i professionisti ma dando la possibilità alle famiglie ai cittadini di poter migliorare i servizi all'interno della propria abitazione non avranno più questo strumento Continuano le carenze d'organico per quello che riguarda le forze di polizia nella regione Marchi il segretario regionale del sindacato FSP Manrico Martini critica fortemente la penalizzante scelta del nuovo piano di assegnazione degli agenti che in tutte le Marche prevederà soltanto 10 nuove unità da collocare ad Ancona l'organico di Pesolo dunque si assottiglia nell'anno del maxi-evento di Capitale della Cultura lo stesso dicasi per i commissariati di Urbina e di Fano che denotano carenze che ormai sfiorano il 40% L'immagine che vi mostriamo ora si riferisce alla grande rotatoria di Pesaro sull'interquartieri collocata fra via Pertini e via Gagarin dove oggi attorno alle 12.30 un camioncino ha perso il proprio carico di lastre e di vetro cospargendo di frantumi l'intero tratto della carreggiata sul posto polizia locale e vigili del fuoco che hanno temporaneamente chiuso il transito verso Santa Colomba per permettere la rimozione dei rifiuti pericolosi incontro ieri nelle comune di Pesaro con i presidenti di quartiere e la società Polab in merito alle torri di telefonia che hanno suscitato diversi malumori e creato anche comitati contrari in questi mesi dall'incontro emerso come l'antenna collocata la muraglia in via Beccaria verrà presto rimossa come da carattere temporaneo dell'installazione è invece destinata a rimanere la torre di telefonia collocata a Fiorenzola di Focara per la specificità del sito che non sembra presentare adeguate alternative ed ora lo spazio dedicato alle vostre segnalazioni che come sempre vi invitiamo ad inviarci al numero whatsapp dedicato 370-366-7210 le foto che vi mostriamo sono di una nostra telespettatrice che ci mostra come la pista ciclabile in zona Fosseiore sia progressivamente sempre più trascurata e invasa dalla sabbia che rende quasi impraticabile il passaggio delle biciclette in alcuni tratti così come sono sommerse alcune delle rastrelliere la segnalazione vuole dunque invitare ad una pulizia per una pista ciclabile che non deve essere solo una infrastruttura di decoro estivo domani alla chiesa dell'annunziata di Pesaro si terrà l'evento musicale We Music Fest legato ad un progetto della cooperativa sociale Labirinto vediamo di cosa si tratta esprimere il proprio talento e le proprie emozioni attraverso la musica e promuovere la condivisione delle competenze tra giovani e questo l'obiettivo di We Music Fest evento musicale conclusivo del progetto Erasmus più We Music che si svolgerà mercoledì 25 ottobre dalle 17 nella chiesa dell'annunziata di Pesaro si tratta di un progetto internazionale coordinato dal labirinto cooperativa sociale nato per rafforzare la cooperazione tra organizzazioni internazionali che lavorano con i giovani un progetto un progetto che ha cercato di riportare i ragazzi fuori in luoghi di aggregazione attraverso questo linguaggio universale che è quello della musica che permette a molti giovani di liberare i propri talenti sia nell'espressione musicale propriamente intesa che nelle professioni legate al mondo della musica si fa a livello comunitario e anche nordafricano diciamo anche per far dialogare tra loro ragazzi di diverse nazionalità a proposito di temi sociali molto significativi tra questi la lotta alle discriminazioni ai discorsi di odio e alle disuguaglianze da marzo 2022 We Music ha coinvolto 120 ragazzi under 35 d'Italia Belgio Tunisia Turchia Bosnia e Palestina con la passione per la musica delegazione di giovani che domani si esibiranno alla chiesa dell'annunziata Parliamo di un progetto transnazionale dove si trovano Tunisia Palestina Bosnia e Herzegovina Italia Belgio e manca una la Turchia però purtroppo nei ultimi giorni con le situazioni che stiamo leggendo e vedendo con la guerra in Palestina i nostri amici non sono riusciti a venire e penso che questo sta cambiando totalmente anche discorsi e l'energia che si trova nel gruppo perché mancano cinque persone mancano cinque amici che sono stati coinvolti nei scambi giovanili in Turchia a Bodrum in Tunisia a Hamamet e penso che questo io come costottrice della pace voglio solo una cosa che la prossima volta tutti i ragazzi avranno la possibilità di stare insieme e vivere in pace come la persona che ha sopravvisuto la guerra lo so molto bene cosa è la guerra e spero che questo tipo di progetto non solo oggi nei ultimi giorni e nei prossimi anni prossimi giorni scusatemi porta la pace e dialogo tra gli tutti e penso che quello momento per noi è molto importante la musica è un ottimo mezzo di comunicazione di superamento di confini e come veniva ricordato questa mattina anche di superamento di stereotipi e di possibili discriminazioni un ottimo modo per guardare il 2024 ma un ottimo modo anche per augurarci un mondo più inclusivo in cui regni la pace specialmente nella nostra Europa e concludiamo il nostro telegiornale andando a celebrare una delle storiche aziende del nostro territorio che proprio questo weekend ha compiuto 50 anni di attività si tratta della utensil tecnica di Monte Gridolfo che potrete ulteriormente approfondire in uno speciale che Rossini TV trasmetterà poi domani alle 21.40 Oggi con le nostre telecamere abbiamo messo piede appena un po' fuori dalla provincia di Pesaro Urbino siamo in provincia di Rimini e più precisamente a Monte Gridolfo siamo qui perché oggi l'autensil tecnica compie 50 anni un'azienda che è stata fondata nel 1973 proprio qui a continuità anche di tutto quello che è un grande lavoro di attaccamento al territorio ed è un'azienda che produce utensili per ogni tipo di materiale è stato facile perché andavo a lavorare a Pesaro fare queste cose qua prendevamo 190.000 lire al mese e praticamente a quel punto lì dopo circa fortunatamente un anno un cliente qui in zona un amico il Trebbiano mi ha chiamato per fare l'assistenza alle loro macchine e ai loro utensili a quel punto lì ho imparato il lavoro e da lì mi sono detto perché non lo metto a larga scala visto che in realtà sono contenti diciamo il mobilificio attuale e così teoricamente è partita questa storia poi dopo ci siamo allargati sempre di più bravi collaboratori che in realtà ho sempre avuto fortuna ti hanno seguito e praticamente abbiamo portato a dire vai avanti vai avanti poi arriva la pensione non puoi andare in pensione perché devi fare un immobile nuovo aggiuntivo più grande e così ti riporti in ballo e ti rimbocchi le maniche e in realtà arriviamo fin qua in cui oggi per fortuna dopo circa un anno e mezzo siamo riusciti a terminare questo traguardo tutto l'utensile cioè tutto quello che è lavorabile passa tra virgolette tra di noi quindi possiamo parlare anche di ceramica di cuoio di madreperla anche legno sughero quindi può essere anche il settore calzalutiero piuttosto che il settore elettronico automotive quindi spaziamo molto sul tipo di utensile non è solo legato al classico legno alluminio PVC cioè è troppo riduttivo ecco questa parola qua quindi voi riuscireste a creare degli utensili per delle macchine che lavorano praticamente tutto esatto in pratica il cliente che ha una richiesta particolare su un tipo di prodotto diverso magari un prototipo che deve anche costruire si affida a noi e quindi cerchiamo di trovargli la soluzione giusta per poter fare il suo lavoro questa famiglia che è diventata industria ma è rimasta ancora famiglia perché succede spesso che ci incontriamo ci confrontiamo dove il titolare diciamo ci chiede le varie cose come state come non state per poi fare in modo di diciamo di continuare in seniorità in più cosa bella cosa bella che mi permette di dirlo che diciamo al momento dello stipendio tanto amato stipendio quello che a fine mese vogliamo che tutti ci abbiamo diciamo ci chiama anche uno a uno per sapere cosa ne pensa come è andato il mese cosa vorrebbe fare ecco perciò questo poca parola il padre che dice al figlio come cosa vuoi che facciamo adesso per il prossimo mese questo è un'azienda d'eccellenza sul nostro territorio e ci fa grande onore il fatto che l'azienda stessa abbia deciso sul nostro territorio di fare questo importante investimento per ampliare i propri orizzonti di lavoro non era scontato perché la nostra è una realtà che comunque rimane decentrata rispetto anche per dire alla forte viabilità che è rivolta verso la costa l'entroterra risulta sempre più distaccato e quindi il fatto stesso che un'azienda che comunque con una storia decida di continuare ad investire sul nostro territorio per noi è un motivo di grande orgoglio e si conclude qui il nostro notiziario subito dopo il letg però non perdetevi un altro dei trailer degli spettacoli in concorso al 76esimo Festival GAD si tratta dell'ultimo che vi proponiamo e che potrà essere come sempre votato sulla pagina Facebook del GAD Amici della Prosa si tratta di Così è se vi pare di Pirandello realizzato dalla compagnia teatro Avalon di Battipaglia spettacolo che poi sarà in scena sabato 28 ottobre alle ore 21 al teatro Rossini il trailer più votato sulla pagina Facebook Amici della Prosa sarà poi premiato con il premio Rossini TV che verrà consegnato nella cerimonia conclusiva del GAD di domenica 29 ottobre ed ora andiamo a ricordarvi la nostra prima serata di questo martedì 24 ottobre che alle 21 e 20 vi propone il nostro approfondimento legato alla presentazione dell'itinerario dei teatri storici della provincia di Pesaro e Urbino proposto da Confcommercio Marche Nord di itinerario che sono stati presentati al teatro di Sasso Corvaro potrete rivedere tutto questa sera alle 21 e 20 a seguire alle 21 e 40 andremo invece a scoprire la nuova sede di Pesaro di Confartigianato imprese sede che si trova nel quartiere Torraccia di Pesaro e che appunto vi mostreremo questa sera alle 21 e 40 e poi come sempre vi ricordo l'appuntamento con la nostra rassegna stampa Buongiorno Rossini come sempre in diretta dal 7 e 20 anche domani mercoledì 25 ottobre ed è davvero tutto per questa sera vi ringrazio per averci seguito e vi auguro un buon proseguimento di serata in compagnia dei nostri programmi